Partiamo con gli highlights da questo rischio di Alfonso che dribbla quasi come fosse un trequartista, un avversario e poi la partita che si mette subito bene per la Cremonese, cross di Polenghi e gol di Dettori che porta in vantaggio al nono minuto la Cremonese, gara che si era messa benissimo per i grisorossi. Il cross di Polenghi, Dettori prende il tempo a Fedi, terzino del Portogruaro, mette sul secondo palo dove Bavena non ci può arrivare. Vediamo le immagini di esultanza da parte della Cremonese e soprattutto di Dettori, neopapà che festeggia in questo modo con il gol che aveva illuso la Cremonese di poter vincere la partita. Poi indecisione di Alfonso con Rigione che sta controllando l'arrivo di Corazza, alla fine è De Sena che potrebbe approfittarne e non ci riesce perché il tiro viene ribattuto dalla difesa. Indecisione che è ancora indice di preoccupazione da parte della Cremonese che regala un po' il primo tempo ai venti dopo essere passata in vantaggio. Quella è una munizione pesante di Dettori che salterà la prossima partita e qua la paratona del portiere del Portogruaro sulla punizione di Rabito va a deviare sul palo. Poi c'è il gol di Polenghi annullato, qui c'è un giallo nel senso di thriller perché c'è una posizione di fuorigioco che come rivedremo forse non c'era. Poi proseguiamo con gli highlights, con le proteste per questo tocco con una spalla di Rigione su tiro di De Sena ma francamente non mi sembrano ci siano gli estremi per il calcio di rigore. Sì sono d'accordo e questo invece è il calcio di punizione di Radi con il quale il Portogruaro raggiunge il pareggio quasi in chiusura di tempo. Va detto che Minelli aveva commesso un fallo ingenuo, Alfonso parte in ritardo e prima dell'intervallo pareggia con Radi con questo calcio di punizione. La compagine del Portogruaro, la prima frazione, si conclude con il portiere che anticipa le noci ma riparte a sprombattuto nella ripresa della Cremonese. Gol annullato a Musetti, questa volta mi sembra giusta la decisione, controllo con un braccio da parte del numero 9. Sul cross di Sales c'è l'intervento falloso di Musetti, l'arbitro vede bene in questa circostanza. Qui c'è il fallo ai danni di Corazza, la punizione di Cunico Alta, stavolta non subisce gol su punizione della Cremonese. Rabito mette in mezzo la botta, colpo sicuro di Musetti, ancora strepitoso Bavena, questo giovane portierino. Insuperabile quest'oggi, se non nell'occasione dell'1-0, due interventi salva partita di Bavena. Qua Coppola ha un'autostrada, non ne approfitta, mette di poco fuori. Poi entra Nizzetto, Cremonese a trazione anteriore. 4-2-3-1, cambia il modulo della Cremonese che però rischia ancora su punizione battuta da Radi. Portogruaro sempre molto attento a concretizzare le palle inattive. E qua il gol, De Sena dimenticato da tutti su azioni di calcio d'angolo, incorna e mette nell'angolo più lontano. Lo rivediamo da un'altra inquadratura, viene lasciato libero colpevolmente dalla difesa grigiorossa. Va detto che il corner era stato regalato da un errore di Minelli che aveva svirgolato il pallone. 2-1 per una Cremonese che nel finale reclama anche in qualche circostanza di mischia in area di rigore. Qua Musetti, strattonato da Cristante, vorrebbe il calcio di rigore, non ne vuole sapere l'arbitro. Mischie finali, addirittura si giocherà per 7 minuti di recupero. Qua è Musetti a commettere fallo su Cristante. Cremonese che ha poco da recriminare, ha commesso degli errori, gli ha pagati, è stata sconfitta 2-1.